Eccoci qui amici di Canale 2 C'è dopo il Tg, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti, ancora una puntata interessante, ci dedichiamo a quella che è la dote di ogni individuo, perché ognuno di noi ha una dote e oggi entriamo, ecco l'altro giorno abbiamo avuto una cantante, ospite in studio e oggi entriamo in un altro tema, entriamo appunto in quella che è la dote di saper scrivere poesie e non è una cosa facile, perché le poesie spesso uno le scrive in momenti di meditazione, però si ha la consapevolezza di prendere questo patrimonio e di donarlo agli altri attraverso la lettura e l'ascolto. Vi presento l'ospite che abbiamo con noi in studio, si chiama Alberto Cosmo, grazie per essere venuto qui nei nostri studi. Grazie a voi. Allora Alberto, tu sei altamurano, come si dice, verace, doc, come possiamo definire? Sono nato ad Acquaviva, ma da sempre sto qui, dall'età piccola, dall'età di 3-4 anni, mi reputo altamurano. Sei come sempre, perché anch'io arrivai qui, avevo 17 anni, però oramai mi sento altamurano a tutti gli effetti, perché poi tutto sommato Altamura è una città all'interno della quale ognuno riesce a trovare i propri spazi, i propri equilibri. Tutti ti conoscono come uomo del mondo del lavoro, perché tu hai avuto dei trascorsi lavorativi brillanti, adesso sei a riposo, hai posato le tue armi commerciali. Esatto, in pensione oramai. Tu nella vita cosa hai fatto? Io ho fatto come ho detto, prima facevo il rappresentante, poi ho fatto un po' l'ispettore commerciale, per poi finire come capoaria in una grossa società. Beh, diciamo che interfacciarsi con gli altri nel settore delle vendite è un ottimo strumento per allenare la mente. Sì, sì. E quindi… Di fatti io, ecco, proprio questo, questa raccolta di poesie che ho fatto, c'è una poesia che, diciamo, lasciamo ai postri, come si suol dire, che è il venditore rurale. Venditore rurale? Rurale, sì, perché il venditore, come c'è sulla poesia, è il venditore. Messo rurale perché adesso va anche di moda questo modo di dire e poi perché tocchiamo un settore, quello zootecnico che abbraccia… Beh, fa parte anche della nostra storia, della nostra cultura, il nostro, tra l'altro, è un paesaggio rurale. Allora, io pregherei la regia di inquadrare questo libro che è stato di poesie, una raccolta di poesie che si chiama Echi di Murgia, scritta da Alberto Cosmo. È un'ironica raccolta di poesie sui temi più veraci della tradizione altamurana, poesie in rima, sul pane, legumi, cereali, sul lavoro, la gioventù e la vecchiaia e anche sull'amore, per concludere sulla vita, perché noi, come spesso accade, si fa un cosiddetto small talk, lo chiamano gli inglesi, prima di entrare in studio, ci facciamo una piccola chiacchierata con Alberto, che al dire il vero ci siamo incontrati un paio di mesi fa e mi dicevo, sto scrivendo un libro, una raccolta di poesie, poi appena sono pronto ci vediamo. Noi abbiamo sempre manifestato la nostra disponibilità e quindi tu questo volume comunque lo presenterai ufficialmente al pubblico nel mese di maggio, quindi il 13 maggio alla BMC, quindi oggi stiamo dando un'anteprima ai nostri telespettatori. Esatto, alla BMC alle 18.30 ci sarà questa presentazione. Io ti ripongo, ti restituisco il libro che hai scritto perché entreremo un po' in alcune letture di poesie ed affronteremo un po' per capire la tipologia di linguaggio. È un libro che in termini di poesie, come abbiamo detto nella prefazione, sono tutte poesie in rima e quindi siamo andati un po' a spaziare su tutte le situazioni, come dicevamo in apertura, il pane, i legumi, il lavoro, la gioventù, la vecchiaia, l'amore, la vita, ma anche il lavoro perché io aprirei per esempio con una poesia carina che hai scritto su Canale 2. Sì, è proprio quella che ci fa piacere perché tu da telespettatore hai percepito delle sensazioni e le hai poi messe, come si dice, nero su bianco, in rima e in poesia e quindi io magari se a te va esordirei con questa tua poesia su Canale 2. Sì, quindi a Canale 2 TV nulla da competere, via etere in famiglia, la guarda il figlio e la figlia, va nelle case degli altri e nelle tue, questo è Canale 2, ottime trasmissioni e telecomunicazioni, nella dialettica acrobatico e magistrale e bravo e molto intellettuale, segue la giusta pista, bravo nell'intervista, eccellente giornalista, gli ospiti sono sempre gentili e cortesi col signor Gresi, nulla nasconde, tutto diffonde, in linea rette, di tutto di più trasmette, con molta lealtà, ottima la pubblicità, straordinaria di sicuro, ecco l'amico Arturo, sa dialogare molto bene, niente lo trattiene, tra questi codesti e loro l'impareggiabile signor Castoro, che coordina nelle varie direzioni ogni tipo di eventi e celebrazioni, lui sempre è in singola attenzione con la sua radio e televisione. Ci fa piacere perché sono poesie che poi nascono anche sul piano affettivo, ci fa piacere che in qualità di telespettatore hai questa percezione professionale della nostra emittente e siamo contenti perché non è da pochi oggi insomma. Io vi seguo da tanto, sono un fan vostro e quindi vi seguo da tanto e quindi ecco perché poi ho tirato una giusta conclusione sulle mie tematiche nel discorso di Canale 2, non perché davanti per me è un professionista il mio amico Felice e come anche l'amico Arturo, ho visto sia Felice che Arturo in tante situazioni eccellenti. Giustamente Alberto parla di me, di Arturo perché siamo quelli che magari quotidianamente usciamo in video, però c'è uno staff che già io stando qui ho visto sono tutti quanti tutta la redazione, i tecnici di Canale 2, sono persone lodevoli, meritano anche loro perché è un gioco di squadra, noi due siamo qui a parlare ma c'è gente nell'altra stanza a muovere i bottoni altrimenti a casa non vedrebbero nulla. Esiste una grande comunione nella tv e televisione. Adesso ti ho preso, come ti piace fare, io prima ironizzavo, dicevo questa era l'arma dei giullari, quella di avere la rima pronta, immediata e i giullari nella storia erano gli unici che potevano permettersi di prendersi gioco anche dei signori, dei nobili e perché a loro tutto era consentito, perché prima chi offendeva il nobile rischiava il patibolo, c'era la pena capitale, nessuno poteva parlare, i giullari no, perché avevano questa grande dote di saper intercettare nel discorso, nel lessico, in quello che uno sta per dire un qualcosa che si conclude con una rima ed è anche credo uno strumento utilizzato nella vita quotidiana da tutti noi, anche quando si attavano con gli amici una rima, un brindisi. Due, con gli amici mi è capitato anche quando lavoravo, come dire, tenere allegri anche i clienti si partiva anche con una rima, quindi per me è molto facile, non ho problemi, diciamo che per me è un dono quello di poter rimare con facilità e anche questo mi ha dato una grande forza nel poter poi comporre poesie sia nel passato che nel presente. Ok, adesso ti pongo la carta, vai come se giochiamo a carte, in questo momento qual è la tua sensazione sapendo di essere in televisione? facendo rima, vedo che sono in televisione e con le mie poesie sono in singola altezone, a volte diciamo anche nei giochi quotidiani nascono davvero delle belle rime e poi in effetti a volte se non hai la possibilità di scrivere le perdi. Lo si scrive, lo si dice e facciamo una rima al nostro amico Felice. Senti, quando hai scoperto questa tua vocazione per la poesia? La vocazione come ho detto poco fa è successo sempre, è un dono che ho il fatto di rimare come alcune poesie, ci sono delle date che parlano quindi di moltissimi anni, la rima è stata, l'ho sempre avuta e vi devo dire la verità, non solo l'ho avuta io, ma l'aveva anche depunto mio padre, forse è un'ereditarietà che mi ha trasmesso, perché anche lui faceva brindisi, poi mi sono reso conto che con questa facilità di rimare facilmente, piano piano ho cominciato con la filastrocca, ho cominciato, parliamo sempre del 1970, ma riuscivi a scriverle, a conservarle? Sì, 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 devo dire che sia io poi arrivando dove mi sono sposato, mia moglie e i miei figli scrivevano sempre e difatti poi con gli opuscoli scritti a loro, quei quaderni proprio antichi di 40-50 anni fa, li abbiamo fatti uscire adesso per creare questa raccolta di questo libro che ho fatto. La più grande eredità che un essere umano può lasciare ai posteri è quello che ha imparato e quello che è riuscito a conservare, io credo che la poesia sia davvero una grande eredità, al di là di quelle opere che ci lasciano i nostri antenati, che ci hanno lasciato, chiese, monumenti eccetera, però il sapere, la conoscenza, io penso che abbia un valore davvero enorme. Sì, niente, io volevo dire questo, come poco fa facevi vicendo al discorso del lavoro eccetera, ho fatto una poesia che l'ho chiamata, come hai detto prima, il venditore rurale. Ah, quella sì, della quale parlavamo in apertura, il venditore rurale. Questo è il mio lavoro, ho iniziato da venditore, poi da ispettore e via dicendo. Allora questa posso declamarla, il venditore rurale, si lavora a tutte l'ore, questo è il venditore, lavorare vuol dire rendita, diamoci sotto con la vendita, ci vogliono i fatti e tanti contratti, quindi le nostre linee di prodotti vada sempre avanti, per suini, polli, caprini, o vini e rovinanti, per cani, gatti e così via, senza trascurare l'ormitologia, capitolo importante, proficuo e preminente, senza del quale non possiamo far niente. La vita è una battaglia, la vista mai si abbaglia, siamo tutti degli attori, eccellenti calciatori, forti forze quanto paggio, forza volontà e coraggio. Il lavoro del venditore è una missione, che tutto assolve con passione. Garbo è competenza, senza ombra di impazienza e da sguardo acuto scrutatore, da severo controllore, tutto viene scandagliato, nulla passa, è inosservato. Beh, in effetti, io ho fatto per 25 anni il venditore. Allora sono contento, perché spero che ho detto delle cose giuste. E' così, è così ed è un dato, quindi io direi che un po' in generale, il venditore rurale magari per la tipologia di prodotti che vende o la tipologia di clientela alla quale si rivolge, ma le regole della vendita credo che siano tutte uguali, sia per un venditore rurale, sia per un venditore ipertecnologico, di magari apparati di computer, eccetera, eccetera. Allora, noi in chiusura di trasmissione, poi vi lasceremo con una chicca, ma di questo ne parliamo dopo. Adesso entriamo su alcune cose che hai messo appunto nella locandina, che abbiamo inquadrato in apertura, che so, poesie in rima sul pane, le glumi cereali, eccetera, adesso è quella del pane, siamo ad Altamura, la città del pane e ci vuole una poesia sul pane. Benissimo, io del pane, per verità, che poi chi comprerà il libro lo vedrà, che poi potremmo anche dire… Certo, certo, poi alla fine chiudiamo e sparliamo un po' di dove si può acquistare, chi è l'editore, eccetera, eccetera. Allora, il pane, volete vivere sani e felici? Pane in tavola, miei cari amici, questo non è uno sballo, deve entrarvici anche il tarallo, sale, acqua, lievito e farina è una ricetta sopraffina, almeno alimento fra i più sani, giovani bimbi e dagli anziani, che ben vivono assai tardi, lieti, megeti e gagliarti. Piace il ricco e l'indigente, perché è molto nutriente, ed insieme al cotechino è boccon da principino, sarete energici, volenterosi, sempre pacifici, giammai nervosi, piace assai di con tutti i buon gustai, specialmente se è davanti, un buon fiasco di vinchianti, concludendo si può dire, senza tema di mentire, volete vivere almeno 100 anni, giuliva e vege di privi di affanni, mangiate pane a volontà, è di ottima qualità. Ottima, io direi il chianti… Potremmo metterci infinitivo, è una mia battuta. No, io adesso ti dico, questo è il pane 1, questo è il pane 2, volete che la salute non vi crei grane? Mangiate del buon pane, di buona cottura, prodotto ad altamura, ottimo di sicuro, fatto di grano duro, vi crea agilità, nei movimenti velocità, senza far venire i calli, sono buoni anche i sono tutti molto erotti, sono buoni anche i biscotti, ci sono belle facce, squisite le focacce, sono caldi e croccantini, ottimi i panini, qui ci sono dei bravi vignaioli, eccellenti mustaccioli. Per sentirti molto attivo, abbiniamo un primitivo, piano piano, senza fretta, assaggiate pomodoro con Bruschetta. Giuro che non la sapevo questa, puoi testimoniare, come parlavamo di prodotti nostri, il pane, il chianti, non è che ci rappresenti, e hai tirato fuori il primitivo, mi sorprende Alberto. Io ti ringrazio. Senti, sai che ad altamura ci sono tante persone che cominciano a scrivere poesie, io penso che tu… Sì, sì, l'ho sentito, dei bravi personaggi, dei bravi uomini, donne, giovani, che ho visto che si cimentano molto sul vernacolo altamorano, sul dialetto altamorano, sono validi. Certo, noi poi abbiamo Michele Micunco, che è anche colui che ti ha dato una mano a pubblicare questo libro, che è stato edito e distribuito da Leggere Edizioni, di Michele Micunco, che è stato qui qualche giorno fa, Michele Micunco poi anche lui è poeta, ha avuto dei premi, dei riconoscimenti nazionali, io ricordo, credo se non ricordo male, a mente un annetto fa, nella Proloco, mi chiamò, mi invitò… Sì, sì, ero presente, anch'io, mi ricordo anche la declamazione… C'erano alcuni poeti, eccetera, eccetera… Ma anche Felice Grissi declamò una poesia… Sì, e io, diciamo, ero lì per leggere una poesia… Sì, 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 ti smentasti molto bene, complimentiti, ero spettatore… No, no, è un bel lavoro, diciamo, per quanto mi riguarda, diciamo, a me piace molto legge le poesie, non so se sono bravo, questo non… ti giudica il pubblico, però mi piace tantissimo perché è come se ti donano un qualcosa di prezioso e devi averne rispetto e quindi ho questa mia, diciamo, questo rapporto con la poesia, nel momento in cui mi affidano la lettura di una poesia, per me in quel momento mi stanno affidando qualcosa, perché credo che ogni poesia rappresenti un momento della vita di chi le scrive. È proprio così. E quindi… Questa, invece, è dei legumi. Ah, eh sì, abbiamo parlato dei legumi, che è un altro prodotto tipico della nostra terra. Abbiamo la cicerchia, la lenticchia… Eh, adesso poi si sta un po' riscoprendo, sta nascendo anche tutto un apparato per la commercializzazione della lenticchia. Allora, i legumi, posso… Sì, sì, sì… È un tonico per eccellenza, rafforza i muscoli e l'intelligenza, antinevrotica, l'autico corroborante, penevrastenici e un tranquillante. Tanto bisbettico e impudente, che lancia in orbita a basse correnti della variabile rosa dei venti. Gli antichi medici dell'Oriente la dichiararono ricostituente, tanto per evoli i confalescenti, quanto per i gracili adolescenti. Già di carattere alimentare, che è terapeutico e salutare, appena il povero per esperienza. Carne del povero, conferma scienza, per l'alto titolo di calorie, che si trasformano in energie. Per le pregevoli dute citate, conviene ripetere almento e fiate. Legumi cotti, buoni e gustosi, molto appetitosi. Ceci, lenticchie, cicerchi e fave, sono un piatto leggero, sublime e suave. Insomma, anche qua hai trovato tutte le rime, ma ti devo essere sincero, viene la voglia di mangiare le rinticchie, perché sono davvero buonissime. Comunque, non so se hai fatto caso, insomma, a un certo punto ho detto anche che c'è la variabile rosa dei venti, c'è il bisbettico e impudente, un suo stretto parente, che è il fagiolo, che va a creare delle arie. Questo volevo dire. Sì, sono le conseguenze dei legumi, ma fanno bene, che poi noi adulti magari su queste cose qui ci teniamo un po' al galateo, per esempio io una volta senti, adesso non so esattamente che tipo di religione, c'è proprio uno stato dell'Asia, adesso non ricordo, va bene, non mi viene, dove a tavola, dopo aver mangiato, se tu sei ospite, con un po' di aria dimostri di aver gradito quello che hai mangiato. e non ci si alza da tavola finché non si fa aria, è come i bambini piccolini che si aspettavano che facessero aria, si batteva dietro la schiena. Per fare il rutino. Quindi è una componente fisiologica. anche se poi, giusto per ridere, per restare aria, c'è aria aria, perché si dice con un peto si sorride e con una cosa si fallite, perché quella è silenziosa, nessuno l'ha sentito e di solito è anche un po' maleodorante. Il fungo cartoncello è quella, sì, perché prima abbiamo parlato di quest'altro prodotto del nostro territorio. Del nostro territorio, quindi. Il fungo cartoncello. Sia in inverno che in primavera, di trovarne tanti si spera, col sole, con la pioggia o con l'ombrello, si va in cerca del fungo cartoncello. Presto di mattina, sia in pianura che in collina, tra sassi forati come una grattugia, il suo habitat è la muggia. Senza nessun eccesso si esce col cestello e col permesso e dopo aver tanto girato intorno, stanco sono di ritorno e se tutto va bene a mezzogiorno, ci si sieda a tavola con grandi bambini e si fa una scorpacciata di funghi, abbacchio e involtini e un eringi di varia forma e colore. Il cartoncello ha un eccellente sapore, tu vai, lo tagli, rinasce e mai muore. Contiene selenio, lento invecchi, ma non diventi un genio. E risir di lunga vita è definito, in cucina è un mito. Direi che è un mito il fungo cartoncello perché veramente lo si può cucinare in tutti i modi. Poi rappresenta anche un po' alcuni periodi della nostra vita perché c'è un periodo nei quali si vedono tantissime persone ad andare sulla murgia in giro con il cestino alla ricerca di funghi e poi ci sono i fortunati che riescono a trovarli e quelli meno fortunati che tornano ahimè con un bottino molto limitato, insomma pochi funghi e quando sono pochi non si friggono si fanno con la pasta e con il sugo e invece se uno ne fa un po' di più allora comincia a dire vabbè li facciamo al forno, con l'anienzo, con fritti, te quali sono quelli che mangeresti più volentieri? Ma io che i cartoncelli sono indubbiamente i migliori. Sì dico come piatto. Come piatto? A me piacciono i trifolati, i funghi trifolati sono eccellenti, poi anche al forno con la salciccia, sono buoni. Sono buoni, buoni, buoni. Allora, volevo dire questo, questo libro ovviamente si chiama Echi di Murgia e che è il titolo del libro, ma anche perché è il titolo di una poesia che ho fatto, Echi di Murgia, perché questa poesia parla della murgia, specialmente la murgia un po' come dire l'alta murgia, perché oggi molta murgia è diventata un po' dissodata, spietrata, modificata, non è più quella di una volta. Io qui in questa poesia più o meno racconto un po' dalla murgia antica, chiamiamola così. Niente, Echi di Murgia. Canti ed incanti nei pomeriggi d'estate, lunghe e passeggiate, le nuvole traversano frettolose, talvolta le piogge scendono copiose. Quante piccole scoperte, quali margheritine, belle piccole piantine, oppure sugli stecchi delle cicorie selvatiche, trovarle è molto bello, facile, sono visibili e pratiche. Là, un pennacchio da vena, una spiga, spesso si trovano in riga, una bambolina di fiorellini, sembrano tanti piccoli campanellini, violoncelle profumate, su essi di steli delicate, soffia il vento, scoglie i simi e se li trasporta, in un momento, verso nuovi destini, trovando i loro affini, e danno origine a nuove piante, che siano belle, che siano tante. Sono lì, ferme al sole, maturando simi e bacche, germinando dal terrino e dalle sue sacche, uccelli appollaiati sugli alberi, molto belli e riposati, formiche di estate, grandi fatiche, vengono farfalle, rosa, celesti e gialle, mosche, vespe, calabruni a svolazzare, girare, gorgheggiare, cantando, ronzando, danzando. Andiamo dunque di sera in campagna, creando una stupenda atmosfera, il canto di grilli corona di estasi la notte, trattando falene e lucciole sulle loro lotte, il cracrà delle rane, si pasta bene, non crea grane, alternandosi in un rullio di piccole lucciolette, accise e spente, singole e inette, piccolo bruco che si muove e tintilla strisciando, minutissime stelle vibranti, delle serate campestri sognando, con la loro lucetta fanno compagnia nel buio della notte, creando gioia e allegria. Questo è il titolo di questa poesia e del libro. E beh, tu poi apri questo libro proprio con questa poesia, Echi di Murgia, e la Murgia, io non so, adesso magari dico qualcosa che non può essere condivisa, io personalmente amo la Murgia a primavera. Sì, è bellissimo, e io di fatti, parliamo di primavera, più o meno. Esatto, perché si risveglia e ha bisogno di pochissimo la Murgia, un filo d'erba, un filo di vento, e vedi questa vegetazione, questi profumi caratteristici. Sia di giorno che di notte. Sì, sì, sì. E se vuoi la verità, questa poesia, il titolo non è Echi di Murgia, ma bensì Le Lucciole, perché parlo delle lucciole. Però, sai, quelle lucciole, è meglio che le abbiamo cambiate, e l'ho messa in Echi di Murgia. No, vabbè, ma per Eico possiamo veramente interpretare davvero tutto, anche il rumore del vento che si sente sulla Murgia, ecco, proprio quello. È proprio quello che ho voluto fare, perché parlavo solo di un insetto che sta lì, insomma, e non di tutto, invece l'Eco, giustamente come dicevi tu, porta tutto, il richiamo. Allora, noi chiudiamo questa trasmissione con Alberto Cosmo, che inquadriamo di nuovo, ha presentato questo libro, a voi amici telespettatori, in anteprima, perché il libro Echi di Murgia, edito da leggere edizioni, sarà presentato in conferenza stampa il prossimo 13 di maggio, alle 18.30, alla BMC, nei locali della BMC. Alla BMC, piazza Zanartelli, numero 18. Io vorrei far vedere anche la parte posteriore del libro, che è molto carina. Questa sarebbe, vabbè, diciamo adesso abbiamo letto, questa è la ferula? È proprio quello, parliamo della Murcia, perché non mettere la ferula? Questo è anche il grafico che si è direttato il signor De Zio Francesco, mi pare che è quello che ha fatto un po' la copertina e tutto il lavoro. Questo volume ovviamente potrà essere acquistato in edicola, in una serie di edicole, ma su tutte anche l'edicola, la Feltrinelli. L'edicola è qua più o meno di Altamura, su Corso Federico, su L'Estramurale, qui non so, verso L'Estramurale, Jolly Carter, diciamo Carlo Ventricelli e piazza San Dateristo. Edicola ai vari punti. Noi ti facciamo i nostri auguri, un bocca al lupo per questa tua prima pubblicazione, perché ti vedo abbastanza emozionato. Poi noi parliamo, diciamo hanno pubblicato un libro, non è una cosa facile, mettere un insieme di cose, trovare chi ti pubblica il libro, quindi è un esperimento, chiamiamolo così, di Alberto Cosmo per cercare di portare a conoscenza di tutti questo patrimonio che è quello di aver scritto delle poesie. Noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi e noi vi lasciamo, amici telespettatori, con Paolo Simone che leggerà una poesia di questa raccolta scritta da Alberto Cosmo. È tutto, alla prossima. Il sogno. Ho fatto un sogno stranissimo che mi ha inquietato moltissimo. Niente di meno, ho sognato che ero già trapassato e facevo un viaggio nell'aldilà, mentre in effetti sano e salvo ero qua. Quel che vidi e quel che udii, ora vi voglio raccontare. Vidi parenti che litigavano per i miei stracci che si appropriavano, notai mia moglie che si disperava per il lutto che non accettava dentro di lei pensava. Restare vedove? Che brutta iella! Fortuna che sono ancora bella! Gli amici non si presentarono ed eri lì tol Camposanto mi portarono. L'unico a piangere in quel frangente non fu né un amico e nemmeno un parente, ma uno strozzino che bisogna dire da me avanzava mille lire. Tosso giunsi alle porte del paradiso e vi bussai pallido in viso. aprì San Pietro che seccato mi gridò, va via, brutto sfacciato. Timido io dissi, non ho peccato, vi si onesto, non ho mai rubato, non so mica un commentatore, un deputato, un esattore e nemmeno un impostore. Al vieni avanti di San Pietro io invece feci tre passi indietro, vidi mia suoccia ad aspettarmi, no, dissi, per Dio, se ci sta lei dentro, non entro io. Tutto d'un botto allora mi portai in purgatorio, immensi spazi, un grande oratorio, c'era tanta gente che adorava lo stensorio, in preghiera e in meditazione senza mostrare alcuna emozione. Curioso allora, all'inferno mi spostai, qui entrato tra secolai. Era pieno di cocotte, artiste e mignotte, tutte donne poco per bene, in mezzo a loro vidi anche ladri dannati, predi, pedofili ed altri sciagurati. C'era pure il mio sarto, il calzolaio, il padrone di casa e il salumaio, che vedendomi insieme mi assalirono e minacciosa. Paga, mi redarguirono, dava paura allora, mi risvegliai e felice a casa nel mio letto mi ritrovai, con il ricordo di questo sogno che subito ho giocato all'otto, 13, 80 e 68.